Un festival che come ogni anno riscuote grande successo torna anche quest'anno il 19 ed il 20 agosto a Pesaro Camonin 50 e 60. Siamo arrivati alla quarta edizione a Pesaro per questo festival Camonin 50 e 60, non solo America ma anche Italia, anche la pubblicità abbiamo riprodotto una cartolina vintage italiana con una ragazza in spiaggia, visto che il festival quest'anno si svolgerà molto vicino al mare, nei pressi della palla di pomodoro di Pesaro e puntiamo a due serate per tutti i gusti, per tutte le fasce di età, per i grandi e per i piccoli e è un gran divertimento. Vi aspettiamo sabato 19 e domenica 20 al Camonin per questa quarta edizione veramente molto curata nei dettagli che piacerà tanto.